La mostra vuole illustrare l'impatto che l'opera dantesca e soprattutto la Divina Commedia ebbe sul nostro territorio e sulla nostra città. In una prima sezione abbiamo esposto le edizioni antiche che provengono dai fondi cittadini in Cunaboli e Cinquecentini in primo luogo della Commedia, ma anche del De Vulgari Eloquenzia, delle rime dantesche e della vita nuova. I manoscritti malatestiani ci aiutano a comprendere come il testo della Commedia venne accostato nelle pagine dei codici più antichi ai commenti e alle illustrazioni, come vediamo in questo caso, in cui un codice giuridico della nostra raccolta è stato accostato a un manoscritto della Divina Commedia che porta proprio una miniatura tabellare il testo disposto su due colonne e il commento che lo incornicia.